Amici sportivi pugni chiusi e pronti alla rissa! Sta per cominciare una nuova puntata di WWE Raw! Oggi vi proponiamo due match femminili mozzafiatanti, ovvero la rivincita tra Sasha Banks e Alicia Fox e la sfida tra le ex amiche Alexa Bliss e Mickie James. Uno scontro decisivo in vista di stream rules tra Matt Hardy e Shemus perché il vincitore sceglierà la stipulazione speciale del match valido per i titoli tag team che si disputerà poi durante il pay-per-view. E infine i cinque possibili avversari di Brock Lesnar in azione a vario titolo. Chi tra Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Brie Wyatt e Samoa Joe si prenderà un vantaggio sugli altri? Beh, lo scopriamo tutti insieme proprio qui tra poco con WWE Raw! E vai!